Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo, quali prospettive per il futuro, che ha visto l'interessante confronto dei esperti del settore. La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi condotta da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, con la partecipazione esclusiva dell'attore e presentatore Germano Lanzoni. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata all'evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni. Il CEO dell'anno Insurance, chiamiamo il vincitore che è Patrick Cohen, AXA Italia. Per essere promotore dell'innovazione a tutti i livelli, dal reinventare l'esperienza cliente con soluzioni come Caring Angel o Fizi, basata su tecnologia blockchain, passato per la soluzione di Prod Detection e Investigation Sherlock, fino alle risorse umane, valorizzate anche da un progetto come Skill Lab. Siamo in compagnia del dottor Patrick Cohen, CEO di AXA Italia. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Dottor Cohen, lei si è giudicato i Le Fonti Awards 2019 come CEO dell'anno Insurance per il terzo anno consecutivo. Come commenta questo riconoscimento? Evidentemente siamo molto felici, sono molto felice io. Questo premio va per me a tutti i nostri innovatori presenti in azienda e tutte le nostre squadre che fanno un lavoro straordinario nel servire i clienti. Quindi molto orgoglio e ci motiva a fare ancora di più. Ecco, quest'anno AXA Italia si è contraddistinta per numerosi progetti innovativi, ma senza dimenticare il proprio capitale umano. Su quali progetti in particolare vi state concentrando in questo momento? Noi ci stiamo concentrando molto sul tema della salute. Siamo stati tra i primi o i primi nel mercato a introdurre la telemedicina. Abbiamo una pipeline di innovazione molto robusta sulla salute che è un tema centrale per il Paese, per l'Italia e quindi continueremo a portare innovazione per essere sempre più partner ai nostri clienti. Quali nuovi traguardi si pone sia come CEO sia per AXA Italia? Quello di continuare a migliorare la soddisfazione dei clienti, quello di fare un uso della tecnologia che possa realmente sempre di più semplificare i nostri processi e deliverare un'esperienza ai clienti che è sempre più gradita.